Il nostro momento è adesso. Questo lo slogan del VI Congresso Regionale della CISL-FP, sigla che rappresenta e tutela i lavoratori dei diversi settori della pubblica amministrazione e dei pubblici servizi. Uno sguardo verso un nuovo sindacato di prossimità. Questa la visione uscita dal Parco Hotel Perugia nell'incontro che ha confermato Luca Talevi, già commissario della CISL-FP Umbria, alla guida della categoria della funzione pubblica. Anunciati anche i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci Revisori. Nomi scelti al termine di una giornata che ha messo a fuoco tutte le novità dei settori dell'FP. Molteplici comparti strategici che con la pandemia negli ultimi due anni sono stati messi sotto osservazione dalla sanità al pubblico impiego. Presenti anche il segretario nazionale Maurizio Petriccioli e il segretario regionale della CISL-Umbria Angelo Manzotti. Se c'era chi ci chiamava Fannulloni, con il Covid e con la pandemia i lavoratori del pubblico impiego si sono confermati senza alcun dubbio. Eroi, ha detto Talevi nella sua relazione, che ha toccato molti aspetti della categoria con una particolare attenzione al rinnovo dell'RSU e rappresentanze sindacali unitarie previsto ad aprile 2022. È un congresso molto importante questo, sia perché si rileggono gli organismi della funzione pubblica CISL-Umbria, ma soprattutto perché è la fase di partenza per la campagna elettorale dell'RSU, dove noi avremo in tutti i luoghi di lavoro liste della CISL, che avranno una piattaforma proprio tesa a dare risposte ai lavoratori, ai cittadini umbri, in questa fase ancora complicata dall'emergenza pandemica, che non è solo un'emergenza sanitaria, ma è anche un'emergenza economica e sociale. Ecco quindi perché è importante non solo valorizzare il personale della sanità pubblica, che si è impegnato da 22 mesi a questa parte, con ferie bloccate, riposi saltati, turni raddoppiati e stress psicofisico enorme, ma è importante anche stabilizzare il personale precario e garantire quella sanità umbra del futuro, che vada oltre l'emergenza pandemica e di una risposta ai cittadini umbri, che purtroppo spesso sono costretti a emigrare in regioni vicini, per trovare risposte alle loro esigenze sanitarie. Ecco perché vogliamo più pubblico, ecco perché vogliamo la stabilizzazione del personale, ecco perché vogliamo che infermieri, osse, personale, sanitario e tutto, possano trovare la loro giusta valorizzazione economica.